La libertà, il confronto tra i popoli e la convivenza civile. Sono alcuni dei temi che hanno ispirato la mostra collettiva di arte contemporanea Transiti, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l'Associazione Maria Madre della Providenza Onlus e allestita nella Galleria Cara Spagnuolo di Palazzo Lascaris. In esposizione opere realizzate da artisti italiani e stranieri a favore dell'Associazione, che opera a sostegno delle famiglie e degli anziani in difficoltà dal 1996. L'idea è nata dalla sensibilità di uno degli artisti, Antonio Ciarallo, che dopo aver incontrato e conosciuto i volontari di Maria Madre della Providenza, ha proposto al Presidente Bruno Cavallo una iniziativa dal forte valore sociale e culturale. L'attualità si è così messa in mostra, l'attraversamento dei mari, l'accoglienza in una mensa solidale, la via d'uscita dal bisogno materiale e dal disagio, storie personali che trovano forma e materia in opere che aiuteranno persone in difficoltà. Abbiamo coinvolto 31 artisti ai quali abbiamo chiesto di dipingere un'opera che riguarda questa problematica dell'immigrazione. Le opere che ci sono state donate rimarranno esposte a Palazzo Lascaris fino all'8 luglio e poi successivamente valuteremo con il Comitato Direttivo Nazionale di AMMP che cosa farne e come concretizzare queste opere in aiuti per le persone in difficoltà. Tra le sezioni, gli artisti dal mondo che raccoglie opere realizzate da chi ha toccato con mano l'esperienza della migrazione, le scritture dal mondo che dà sfogo ad una particolare ricerca segnica, transiti che dà spazio al paesaggio, interpretato anche in chiave astratta e figurativa come momento di spiritualità e di rinnovamento. Il transito significa più che cammino, significa passaggio e quindi a mio parere esprime tutto il meraviglioso work in progress che è intanto la vita di ognuno di noi. Poi è inutile evidenziare che lo spostamento dei popoli sia diventato un'emergenza umanitaria, ma transito è interpretato dagli artisti di questa mostra anche in senso metaforico, il che significa che ho voluto che parlassero dell'affermazione dell'identità personale, del cammino di riconoscimento del proprio valore. Quindi non è una mostra che parla tanto di emergenza umanitaria e di sofferenza quanto è una mostra che indica la via per la speranza. Un'occasione, come ha detto Daniele Valle, consigliere delegato dalla Presidente dell'Assemblea regionale di riflessione sul tema delle grandi migrazioni e una opportunità per aiutare concretamente chi vive ai margini. Transiti a Palazzo Lascaris è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 fino all'8 luglio. L'ingresso è libero. Grazie a tutti.